Oggi parleremo in grandi linee di come si acquista un prodotto o un servizio in modo sicuro sul web. Seppur lentamente anche nel nostro paese si inizia ad acquistare prodotti e vari servizi su internet, proprio perché lo scopo degli internauti è quello di fare acquisti economicamente vantaggiosi e bisogna avere la capacità di selezionare dei siti sulla base della convenienza dei prodotti stessi. Prima di fare un acquisto bisognerebbe eseguire alcuna indicazione. Infatti una volta individuato il sito dobbiamo stamparci le condizioni generali di vendita e leggerle con attenzione, prestando attenzione ai tempi di consegna e ai costi di spedizione. Poi possiamo controllare che ci sia il nome del titolare del sito e l'indirizzo della sede legale. Diffidate comunque dei prezzi troppo bassi e perlomeno controllate se qualche altro consumatore ha lasciato recensioni sul blog o su forum a riguardo di quel sito. A questo punto stampate l'offerta che vi interessa e tutte le comunicazioni intercorse tra voi e il sito e inoltre assicuratevi che nella fase del pagamento il sito utilizzi sistemi di sicurezza internazionale. Quest'ultimi sono riconoscibili in quanto sullo schermo in basso a destra compare un'icona a forma di lucchetto e inoltre l'indirizzo protetto inizia sempre con la dicitura HTTPS e di conseguenza controllate sempre i movimenti della carta di credito. A questo riguardo se potete andate presso il vostro istituto bancario perché esistono in commercio delle carte di pagamento ricaricabili indicate per questo tipo di operazioni che vi mettono a riparo da qualsiasi azione di hackeraggio. Ricordatevi che se cambiate idea per esercitare il diritto di recesso avete tempo 10 giorni lavorativi dalla data in cui il bene vi è arrivata a casa. Il recesso va comunicato inviando la merce con la solita raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede legale o all'indirizzo del sito stesso. L'azienda in questione quindi ricevuta la comunicazione della restituzione della merce vi deve rimborsare i soldi entro 30 giorni. Se il consumatore non è stato informato dal venditore circa la possibilità di esercitare tale diritto il termine si allunga a tre mesi dalla data della consegna della merce. Il diritto di recesso comunque è escluso dalla legge in alcuni casi tra cui salve che il negozio web lo garantisca comunque ugualmente e questi casi sono per gli oggetti prodotti appositamente o creati personalmente per il consumatore, per beni deperibili o che si modificano velocemente, per prodotti audio video o software sigillati che siano stati aperti dal consumatore. Anche per l'acquisto di giornali o riviste, per scommesse o lotterie e per servizi che prima della scadenza del termine per esercitare recesso siano stati già eseguiti con il consenso del consumatore. Seguite queste poche indicazioni e non rischierete spiacevoli sorprese.